Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale ragazzi benvenuti con questo nuovo video contest voi direte cazzo maxi ma stai a fare un video contest? Sì ragazzi sto facendo un nuovo video contest che spero mi aiuterà ad arrivare in fretta a 15k ragazzi anche grazie al vostro aiuto e in questo contest ragazzi come vedete a schermo i regali sono tre ragazzi quindi guardate bene il video guardate bene tutti quanti i requisiti perché comunque in questo contest ci sarà da prendere ragazzi e ci sarà da prendere anche di brutto quindi io penso che possiamo anche incominciare a parlare di questo contest allora come ho già detto in live ragazzi oggi pomeriggio e ve l'ho accennato anche in questi giorni che avevo intenzione di fare un altro contest road to 15k con la speranza di arrivarci presto ragazzi e in questo contest ragazzi metterò in palio tre premi saranno tre premi come vedete in sovraimpressione a schermo abbastanza ricchi ragazzi tra cui il gioco del mese in cui io arriverò a 15k quindi se arriverò a 15k a ottobre ci sarà Red Dead Redemption e così via più un anno di Playstation Plus o un anno di Xbox Live quindi sono bei premi ragazzi sono bei premi non metterò in palio nessun account moddato ma saranno questi i premi come ho già detto ragazzi il gioco sarà in base al mese in cui io arriverò a 15k allora come ho già più o meno spiegato nella live se arriviamo per esempio a 15k per ottobre a ottobre esce Red Dead Redemption io vi regalerò Red Dead Redemption se arriviamo a 15k a novembre e a novembre esce FIFA 2019 io vi regalerò FIFA 2019 o comunque uno dei giochi del mese ragazzi a vostra scelta ovviamente giochi del mese di quel mese non è che io aspetto gennaio per regalarvi al gioco no io ve lo regalo a novembre poi quello che ce fate voi col gioco ce fate quello che cazzo vuoi fare se i giochi del mese sono tre io vi regalerò un gioco di quel mese a vostra scelta voi mi direte Maxi a me piace che ne so cazzo imperio alla romana che esce sto mese io vi regalo cazzo imperio alla romana per capirci ragazzi giusto per dire per fare un esempio quindi passiamo subito ai requisiti ragazzi allora quali sono i requisiti per partecipare a questo contest i requisiti diciamo che in linea di massima sono quelli di sempre ma visto gli ultimi truffaldini ragazzi che ci sono stati in questi contest voglio vi dare problemi e quindi ho messo qualche piccolo accorgimento in più per quanto riguarda i requisiti del contest quindi andiamo a vedere quali sono i requisiti allora il primo requisito ragazzi è essere molto attivo sul canale ragazzi dovete essere molto attivi sul canale perché se non sarete attivi sul canale e mi avete lasciato un like a dicembre e un like a giugno anche se verrete estratti non vincerete come il truffaldino che ha fatto l'ultima volta che mi aveva lasciato un like a dicembre e un like a giugno solamente nei due contest quindi automaticamente per me quello non ha vinto perché comunque è una persona che non merita quindi automaticamente ragazzi questi premi dovete meritarli io ve li regalo però voi li dovete meritare io do qualcosa a voi e voi date in cambio un qualcosa a me cioè l'attività sul canale qualche like se vi va a regalarme e tutto il resto il secondo requisito ragazzi è lasciare like e condividere questo video fate girare questo video all'infinito ragazzi dove deve girare come come una mille dire falsi oppure come 50 centesimi o un euro falso lo devono vedere tutti più gente lo vede prima arriviamo a 15 mila e prima andremo ad estrarre i premi quindi andrà bene per voi andrà bene per me insomma andrà bene per tutti ragazzi quindi come ho già detto più si condivide questo video più si arriva in alto ragazzi il prossimo requisito ragazzi qual è il prossimo requisito voi mi direte ah Maxi ma quanto cazzo la stai a far lunga con questo video eh ragazzi c'è uno scopo a tutto c'è uno scopo se io sto facendo questo video lungo a tutto c'è uno scopo passiamo al terzo requisito ragazzi allora tenere il canale pubblico perché dovete tenere il canale pubblico in maniera tale che quando io andrò a fare l'estrazione perché farò un'estrazione in live come è stato nell'ultimo contest perché l'estrazione dei contest a mio avviso ragazzi si fanno in live proprio per ehm per la vericid veriticità della cosa ma se parolone che mi è uscito fuori manco riuscivo a dirlo fra un po' e le estrazioni si fanno in live e quindi farò in live l'estrazione se voi avrete il vostro canale pubblico ok che io potrò verificare se siete iscritti potrò verificare se avete messo like eh potrò verificare la vostra attività vincerete se l'avete privato non vincerete ragazzi è semplicissimo il quarto requisito ragazzi non creare account fake per partecipare vuoi dire come tanto se io lo creo tu come fai a accorgetene non vi preoccupate ragazzi che io me ne accorgo un account fake è un account fake quindi vi potete inventare quello che vi pare anzi non vi dico neanche come faccio ad accorgermene ad accorgermene scusate perché sennò poi magari prendete le dovute contromisure comunque ve lo dico in anticipo non create account fake per partecipare al contest perché non mi sembra proprio il caso anche perché non è giusto nei confronti di tutti gli altri iscritti e quindi cercate di non farlo il prossimo requisito ragazzi qual è il prossimo requisito il prossimo requisito è iscriversi al canale perché dovete iscrivervi al canale per partecipare perché se non siete iscritti non vincete quindi andiamo avanti ragazzi qualora venisse a mancare uno solo di questi requisiti non vincerete il contest questo ve lo dico chiaro riascoltate il video quante volte volete per cercare di capire bene tanto comunque le scritte passeranno in sovra impressione a schermo diciamo come state vedendo c'è anche scritto a schermo quindi l'ultima cosa che vi voglio ricordare c'è ancora un pezzo mancante nel video che ancora non vi ho detto però vi posso dire una cosa vi darò semplicemente un consiglio guardate semplicemente il video fino alla fine io vi saluto qui a questo punto del video detto questo ragazzuoli un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti